Alte Rego è un progetto artistico che nasce tra me e Daniela Conte. È la possibilità di sperimentare due linguaggi diversi che hanno nel profondo della comunicazione artistica e ha tanti punti in unione, la stratificazione, la ricerca dal profondo, l'emersione, l'implosione, l'esplosione del lavoro. Una reciproca confessione. I nostri lavori parlano appunto di una stratificazione, parlano di memoria, parlano di una raccolta memoriale, parlano di un velare e di uno svelare. L'orecchio è un mezzo di comunicazione che è aperto sia verso l'esterno che verso l'interno della ricezione di tutto quello che può essere un mondo interiore, imploso, interno, sconosciuto, che vuole o non vuole mettersi in comunicazione con l'esterno. Sono dimensioni mentali, è l'inconscio che comunica attraverso dei momenti che si vanno ad imprimere sulla tela. Dentro questo processo mi viene immediatamente da dire che c'è la verità. Non si può mentire, non si può fare altro che continuare a scavare, continuare ad accumulare per andarla proprio a rendere manifesta. Grazie a tutti.